Il 3 di luglio partiranno i lavori di costruzione di un muro che quindi non consentirà più agli abitanti di Santa Mama di poter uscire o entrare nell'abitato. Un muro per mettere in sicurezza il passaggio a livello di Santa Mama, un'opera che ha già fatto storcere il naso ai residenti della piccola frazione del comune di Subiano ma anche all'amministrazione. Procurerà sicuramente dei problemi di oggettiva pericolosità oltre ai disagi e oltre a una serie di problematiche all'abitato. La pericolosità perché lì praticamente si tratta di un borgo storico, un borgo stretto la cui viabilità è molto angusta all'interno e quindi in caso di emergenza e di necessità si creerebbe una pericolosità oggettiva. per gli interventi dei mezzi di primo soccorso così come anche via d'uscita per qualsiasi altro motivo, senza contare i disagi che si possono creare per il servizio della nettezza urbana, per il trasporto scolastico, quindi per tutta una serie di questioni che sono legate anche al servizio della cittadinanza. Il comune di Subiano, da sempre contrario a questa chiusura, si è già adoperato per presentare formalmente richiesta sia alla Regione Toscana che a LFI per impedire la realizzazione del muro. Il comune ha proceduto con un ricorso al Presidente della Repubblica, un ricorso straordinario contro questo provvedimento, che è adottato dalla Regione Toscana, ha inviato una diffida a tutti gli enti che possono essere interessati anche da questa problematica, come anche alla Prefettura e ho direttamente chiesto anche l'intervento del Presidente della Regione Toscana, che mi ha dato la sua disponibilità quindi anche ad incontrare i cittadini, a venire sul posto a verificare un po' la situazione. Grazie a tutti.